Amici del sito www.gianlucarossi.it, ma che serata! In realtà è notte fonda mentre sto realizzando questo breve video editoriale perché mentre l'Inter vinceva 3-1 a Napoli, io ero in volo da Istanbul a Milano e devo dire che ho appreso del risultato soltanto quando sono atterrato. Poi ora di notte me la sono rivista, che spettacolo ragazzi! Siamo forti, siamo forti e anche oggi quando Cristiano Ronaldo, perché se lo dice un tifoso qualsiasi, voglio dire, conta zero, ma se lo dice il numero uno, numero due del mondo che si augura che l'Inter perda a Napoli vuol dire che comunque un po' di pressione gliela mettiamo. Invece l'Inter a Napoli non ha perso, anzi ha vinto e devo dire che ha vinto bene. È chiaro che dopo l'1-2 Lukaku, Romelu Lukaku, sono sempre più innamorato di lui, ma lo sapete già questo. Il Napoli ha avuto un ritorno di fiamma, ha comunque riaperto la partita con il gol di Milik, poi nella ripresa, sempre lui, Lautaro Martinez alla chiusa. In pratica Lukaku e Martinez hanno realizzato complessivamente fino a questo momento 30 gol stagionali. Credo che sia un dato straordinario anche dell'intesa fuori dal campo e in campo che hanno questi due giocatori. Insomma, continuiamo questo testa a testa con la Juventus, ma non vincevamo a Napoli nel 1997. Insomma, siamo veramente forti. Adesso vediamo che cosa ci arriva dal mercato, ma continuiamo così ragazzi. E forza Inter, grande vittoria stasera, grandissima vittoria. Adesso quasi quasi me la rivedo. Un bacio e alla prossima. Ciao ciao!